amici del vaso di pandora benvenuti ben ritrovati martedì quindi puntata di aggiornamento sui principali temi di politica e di economia dol benvenuto a gilberto trombetta ciao gilberto ben trovato carlo e ben trovati i nostri spettatori ovviamente allora il te i temi sono parecchi da trattare molto interessanti ma io direi che partiamo con una notizia molto ma molto interessante che viene dalla germania potenzialmente in prospettiva potrebbe essere dirompente perché il partito alternative furdoi celanda potrebbe fare la campagna elettorale alle elezioni europee di giugno 2024 con la richiesta di sciogliere l'unione europea questa è la proposta che verrà messa ai voti al congresso del partito a fine luglio è una cosa fondamentale teniamo presente che il partito è attualmente attorno al 20 per cento dei sondaggi è cresciuto moltissimo negli ultimi tempi gilberto a te la parola in queste situazioni le dinamiche potrebbero anche accelerarsi no essi d'altro nemmeno questa prospettiva non magari legata specificatamente ad alternativa per la germania alternati pur deutschland ma le avevamo affrontate in diverse occasioni cioè attenzione che se l'italia perde tempo ci potrebbero essere altri paesi di quelli grossi di quelli fondatori che potrebbero decidere di uscire dall'unione europea ovviamente se prendono voti nei rispettivi paesi e partiti che propongono l'uscita o ancora meglio in questo caso anche questo carlo abbiamo detto spesso quando ci chiedono come si esce che cosa succede se si esce dall'unione europea e o dall'eurozona la risposta è sempre stata una dipende se si esce perché si si disgrega in maniera concordata con gli altri paesi l'unione europea e l'eurozona sostanzialmente potrebbero non esserci nessun tipo di conseguenze di contraccolpi per nessuno se invece un paese uscisse unilateralmente andando allo scontro con gli altri tutti i paesi sia favorevoli che no avrebbero sicuramente qualche mese forse anche un anno di eh eh potenziali scostoni economici per carità è vero che nell'unione europea e nell'eurozona ci siamo abituati quindi non ci frena questo quindi è molto interessante la proposta di alternative for deutschland a perché viene come ricordavo te da un partito eh non particolarmente piccolo anzi tutt'altro insomma eh venti per cento mh è veramente tanto poi ricordiamo sempre che le dinamiche nazionali e all'europea sono molto diverse cioè storicamente i partiti euroscettici anti-europeisti hanno tutti i paesi preso quasi sempre per non dire sempre più voti proprio alle europee quindi se un partito è già dato a tanto nel proprio paese e ha una politica si si propone con una politica fortemente anti-europeista eh come come potrebbe essere questo il caso addirittura di mettere in ettogramma richiesta eh del discioglimento della distruzione dell'unione europea beh beh lo scenario si fa molto interessante certo sarebbe bello che in italia eh nel parlamento eh fossero già presenti partiti o alleanze con la stessa linea di programma cioè che vogliono l'uscita dall'unione europea e dall'eurozona ovviamente possibilmente in maniera concordata con gli altri e se no no tra lo scenario si fa interessante perché come abbiamo sempre detto un conto è che esce la grecia cipro per fare un esempio eh è ovvio che se esce un paese tra italia germania e francia in maniera concordata ok ma anche in maniera unilaterale difficilmente unione europea ed eurozona eh sopravviverebbero all'uscita di uno dei grandi paesi fondatori sì eh tra l'altro è interessante notare gilberto che eh l'italia che è uno tra i paesi più con una componente più euroscettica tra i cittadini di fatto nel parlamento il partito in parlamento non c'è un partito euroscettico perché non possiamo considerare la lega euroscettica non possiamo considerare fratelli d'italia euroscettici mentre la germania in questo senso fa in una situazione paradossalmente opposta rispetto all'italia no è vero sicuramente noi siamo incredibili perché noi saremmo voluti essere in vantaggio rispetto agli altri paesi su questo fronte cioè avere già delle realtà strutturate ovviamente politicamente stiamo parlando di partiti eh non di movimenti associazioni che è pieno però parlavamo appunto di prospettive di governo o di peso all'interno del parlamento l'italia insomma l'euroscetticismo l'antieuropeismo ha cominciato a crescere a diffondersi prima è meglio che in altri paesi quello che sono arrivate in ritardo non sono tanto le realtà politiche ma l'organizzazione e la strutturazione delle realtà politiche non a caso alle scorse nazionali quelle del 25 settembre era la prima volta sottolineo la prima che in Italia si erano presentate almeno un paio di realtà palesemente eh anti europeiste eh nel senso che intendo dire che nel programma avevano scritto l'uscita dall'Unione Europea e dall'Euro non cambiamo l'Europa da dentro o no a quest'Europa era la prima volta ovviamente essendo la prima volta non hanno preso non è entrato nessuno in Parlamento insomma il segreto di Pulcinella staremo a vedere alle europee e soprattutto nei prossimi anni a meno che non esca prima un altro dei paesi grandi eh togliendoci così le castagne dal fondo sì certo eh le dinamiche sono così così evidenti in moto anche grazie in questo senso o a causa della del conflitto in Ucraina e di quello che probabilmente ne conseguirà i prossimi mesi che potrebbero innescarsi dei eh movimenti diciamo da da un punto di vista anche sociale oltre che politico in questo momento quasi impensabili ma siamo in una situazione così particolare così pericolosa che da qui a giugno duemila e ventiquattro fra un anno esatto in pratica eh da questo punto di vista è un tempo lunghissimo e mh e dopo domani diciamo ma è comunque un tempo lunghissimo può succedere veramente di tutto eh può succedere di tutto ma anche questo era eh lo sviluppo che sta avvenendo era prevedibile perché anche questo lo avevamo sempre detto la Germania è stata e sta nell'Unione Europea con l'Euro fin tanto che gli conviene in questo non è un'adesione ideologico barra romantica come come è nel caso dell'Italia voglio dire produzione contotersista nel sud dell'Europa e nell'est Europa che gli abbassa i costi di produzione materie prime energetiche a basso costo eh traverso la Russia e tutto quanto tutte queste componenti stanno venendo meno ne sta risentendo il modello ordoliborista e orientato all'export tipico tedesco e quindi su cui è costruita anche l'Unione Europea quindi eh dei partiti si stanno facendo i loro conti ma il malcontento va anche al di là comunque di alternativa per la Germania perché a loro non conviene più stupisce ancora una volta che l'Italia a cui non è mai convenuta l'Unione Europea e l'Euro invece resti a guardare. Sì ecco la Germania conviene sempre di meno e questo diciamo fondamentalmente spiega il successo di un partito come a FDEP appunto l'Alternative for Deutschland. Veniamo eh veniamo Gilberto alle vicende politiche di casa nostra la settimana scorsa sabato scorso la manifestazione ai fori imperiali del Movimento 5 Stelle a Roma a favore del salario minimo e del reddito di cittadinanza. la Conte in prima fila e si è unita alla manifestazione a sorpresa nel senso che eh di fatto non ha consultato il partito in merito eh Elie Schlein si è unita con questo famoso bacio a famoso si fa per dire a Giuseppe Conte. Elie Schlein che ricordiamo è comunque favorevole all'invio delle armi in Ucraina quindi c'è un solco rispetto al Movimento 5 Stelle. Torna a farsi vivo Beppe Grillo che ha dichiarato l'ormai famosa fate le brigate di cittadinanza mettete il passamontagna. A te a te il commento. Era una battuta. Sappiamo che Grillo è un personaggio eh che è spesso quando si espone butade uscite di questo tipo di solito sono appunto butade uscite a cui non bisogna dare un peso particolare credo che anche questo sia il caso fatto sta che dopo la tempesta di polemiche ha subito ma eh era una battuta che sia una marcia indietro tardiva o la verità insomma lascia il tempo che trova l'avvicinamento tra PD e 5 Stelle non è una novità hanno avuto delle difficoltà in base alle varie correnti interne ma insomma eh se vogliono provare a a cominciare a rivincere qualche lezione è ovvio che non sono da questo punto di vista autosufficienti nessuno di due stando alle percentuali e ai sontaggi eh il centrodestra è abbastanza compatto poi parleremo pure del centrodestra credo più avanti eh i 10 5 Stelle sono quasi costretti a un'alleanza forzata in un sistema come quelli italiani falsamente bipolare ovviamente ehm non bipolare in senso psichiatrico in realtà anche in senso psichiatrico ma bipolare in senso in senso politico io continuo a ritenere insomma a parte i vantaggi del eh proporzionale rispetto al maggioritario che spinge verso il bipolarismo credo che l'Italia proprio culturalmente socialmente e quindi anche politicamente sia una nazione a fortissima trazione eh proporzionale non maggioritaria non è un modello che ci appartiene e però ecco stando così le leggi elettorali è ovvio che PD e 5 Stelle se non vanno affiancati eh difficilmente possono ottenere qualcosa. Senti ecco eh affiancati non la vedi in futuro neanche in prospettiva futuro una una fusione? Guarda mi sembra a oggi estremamente difficile perché eh nonostante i punti di contatto innanzitutto i 5 Stelle ehm sono una forza più liquida con tutto quello che comporta questa definizione nel senso che poi in base a chi eh tira le redini possono assumere posizioni anche diverse antitetiche rispetto a quelle di sei mesi prima un anno prima cioè non hanno un'ideologia di riferimento e quando un partito non ha un'ideologia di riferimento sostanzialmente vuol dire che nel medio periodo eh fa proprio all'ideologia eh che va per la maggiore esternamente anche quindi è un partito appunto che poteva stare al governo con la Lega col PD eh e può tornare a cambiare se se insomma se al posto di Conte ci fosse qualcun altro se torna l'intervento di Grillo eh al momento però insomma i punti di contatto quantomeno perché sono entrambi opposizione li hanno più col PD su alcuni temi sicuramente c'è un po' più di sensibilità eh comune comune non su tutto ovviamente appunto invio di armi in Ucraina ma non solo e quello è un tema è un tema divisivo non da poco eh perché lì ci sta proprio un retroterra eh di convinzioni da eh in un senso e nell'altro eh mi permetto di dire che insomma un partito che si schiara apertamente almeno a parole o abbastanza contro la guerra e l'invio di armi stupisce eh non dia una mano a livello di visibilità alla raccolta firme di questi referentari e tra poco parleremo di quello. Sì però questo lo devo dire insomma eh lo trovo un po' ipocrita ecco visto che quella è un'azione concreta tra l'altro portata avanti da due eh comitati civici no? Quindi non è che è vero certo per esempio noi di democrazia sovrana e popolare ci stiamo spendendo molto per referendum ma i comitati sono civici penso anche alla marcia della pace di Santoro insomma chi ha queste posizioni e soprattutto una grande visibilità dovrebbe aiutare da questo punto di vista. Comunque non mi sembra verosimile o non mi sembra nelle cose che sono cose stando eh alla situazione attuale una fusione addirittura tra PD e 5 Stelle mi sembra altamente improbabile. Ecco però io vorrei tornare con con te proprio sul tema che giustamente hai sollevato adesso un partito che si professa antibellico contro l'invio delle armi non dà una mano a ehm diciamo raccogliere non non appoggia no eh il referendum eh per la la raccolta delle firme per il referendum contro l'invio delle armi che spiegazione ti dai tu? Io credo una spiegazione secondo me tu ce la una una tua idea ce l'hai secondo me. Io ovviamente un diametro la sono fatta perché eh o la posizione contro la guerra è solamente di facciate non ci credono però non lo posso escludere ehm macchiavellicamente ma senza neanche arrivare a macchiavelli o più verosimilmente eh ma altrettanto squallidamente mi permetto di dire su una questione di mero calcolo politico. Non è un referendum che i 5 Stelle si possono intestare. Possono aiutarlo, dargli la visibilità ma non è stato proposto da loro. Ripeto è vero che c'è un comitato ci sono dei comitati civici due no? Generazioni future quello di Enrico Mattei che però anche se non è un partito però è è fattività politica Mattei no? Eh che non è un solo un personaggio eh e anche il comitato ripudia la guerra poi ripeto eh per carità siamo ancora piccoli poco conosciuti dobbiamo crescere però l'alleanza di cui eh faccio a parte anch'io democrazia sovrana e popolare sostanzialmente è quella è la realtà che si sta spendendo di più per raccogliere le firme organizzando i banchetti, eventi, iniziative e probabilmente c'è anche il calcolo elettorale che non solo non si possono intestare il referendum non avendolo proposto loro no? Se poi la raccolta firme va bene va bene il referendum e se facciamo un assist a democrazia sovrana e popolare io credo che ci sia anche molto banalmente un calcolo di questo tipo. Di questo di questo tipo quindi dici se non ci conviene eh se non riusciamo a intestarcelo elettoralmente diciamo anche il referendum contro la guerra può venire in secondo piano insomma ecco. Si parla di pace, di essere contrari è l'unica azione concreta. Diciamo grave, diciamo grave, io sono un idealista, lo sei anche te pur concreto e infatti sei conosciuto come l'uomo dei numeri però diciamo c'è un idealismo alla base e quindi queste cose qua noi risultano inconcepibili a me e sicuramente anche a te. Senti ecco a proposito del 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 silenzio proprio del referendum contro l'invio delle armi ci sarà un presidio di protesta sabato prossimo a Roma sotto la sede proprio principale della RAI, la sede proprio della RAI in Viale Mazzini contro proprio il silenzio e la censura che la televisione pubblica nazionale state e non solo ovviamente sta tenendo nei riguardi del referendum contro contro la guerra. Esattamente sai finché le testate private no? Anche se nazionali famose decidono perché in realtà molte sono proprio favorevoli alla guerra all'invio delle armi no? Eh si schierano palesemente con questa posizione quindi ci sta non parlino del referendum eh poi in realtà ripeto sono testate private quindi seguono i loro interessi non è informazione pubblica ecco quello che sulla carta ancora oggi con tutti i suoi limiti e tutti i suoi costi molto onerosi per noi contribuenti quindi ci dovrebbe dare un servizio perché io ovviamente sono lo sai lo dico sempre non favorevole strafavorevole alla spesa pubblica eh agli investimenti quindi anche nell'informazione eh ma l'informazione me la devi dare però possibilmente pluralista possibilmente quindi la congiura del silenzio perché io parlo di congiura del silenzio ha ragion veduta la RAI dovrebbe dare dovrebbe proprio è obbligata a dare spazio alla raccolta firme per un quesito referendario non eh ci stanno apertamente boicottando insomma eh i contatti ci sono stati ci hanno proprio detto no ci dispiace no non lo facciamo quindi non è che stiamo ipotizzando è una congiura del silenzio voluta è gravissimo quando proviene da quella che ripeto sulla carta è informazione pubblica nessuno pretende ospitate di mezz'ora in prima serata tutti i giorni eh però ripeto tra darci una visibilità estrema come viene data da altre cose molto meno importanti o appunto la congiura del totale silenzio anche perché questo Carlo permettimi di dire stando a tutti i sondaggi che insomma chiedono le posizioni degli italiani sulla guerra sull'invio di armi eh aveva o ha ancora in realtà perché non è finita la raccolta firme altissime possibilità di riuscire sia nella raccolta firme ne servono 500 mila mezzo milione sono tante ma sono molti di più gli italiani contrari all'invio di armi e al coinvolgimento più o meno diretto dell'Italia nella guerra attuale ma anche poi di riuscire poi una volta raccolte le firme eh a far passare i quesiti che proponeva ecco eh è un calcolo scientifico politico non dare visibilità a un referendum che ha grosse possibilità di successo il problema è che se le persone comuni non sanno neanche che si stanno raccogliendo le firme eh non è che noi abbiamo le capacità anche con l'aiuto esterno di fare 6.000 banchetti in tutta Italia tutti i giorni 24 ore al giorno anche infrasettimanali eh quindi ovvio che in assenza di un di una visibilità qualsiasi diventa tutto molto più complicato sì eh la manipolazione è mediatica una delle lei e delle regole fondamentali della manipolazione mediatica è anche il silenzio non solo raccontare le bugie come si dice nel nostro ambito no se di una cosa non si parla non esiste eh sì esattamente se di una cosa non si parla non esiste noi abbiamo realizzato un'intervista abbiamo ospitato qualche settimana fa proprio giurista Ugo Mattei e Enzo Pennetta la settimana prossima vi anticipo già avremo ospite eh anche Carlo Frecero che è uno dei principali promotori eh di questo eh referendum eh passiamo ehm Gilberto a tematiche più strettamente economiche perché uno degli argomenti eh forti che sta tenendo in grande apprezzione anzi non solo preoccupazione ma sta mettendo in forte difficoltà moltissimi nostri connazionali è l'aumento delle rate del mutuo che sono destinate prego prego perché la situazione è eh piuttosto grave in molti che hanno il mutuo in corso eh sì gli scenari sono abbastanza mh forti perché non solo ci sono stati eh un aumento dei tassi come non si era mai visto dalla nascita dell'euro quindi non si erano mai visti in epoca di euro un aumento dei tassi così repentino eh prolungato è alto non si era mai visto ma la BCE continua a dire noi continuiamo a settembre facciamo un altro rialzo dei tassi e non sarà l'ultimo quindi le previsioni sono abbastanza brutte sono pessime perché ha un mutuo a tasso variabile però sono pessime anche per i mutui a tasso fisso che devono ancora essere accesi ovvio chi già lo ha acceso in passato il problema non è così però c'è chi magari si trova a dover comprare una casa in questo momento o nei prossimi mesi e si trova a dover scegliere tra mutui a tasso fisso molto alti e mutui a tasso variabile che però possono alzare aumentare ancora di più quindi poi la scelta non è facile e parliamo di aumenti sostanzialmente i mutui a tasso variabile la rata del mutuo nell'arco di quest'anno stiamo già a metà raddoppieranno mentre l'aumento di quelli di attasso il tasso fisso diciamo raddoppierà nel 2026 mentre quelli a tasso variabile aumenteranno del 60 70 per cento dipende dalle estime ma è tantissimo vuol dire che sostanzialmente se tu a gennaio dello scorso anno pagavi 500 euro di rata del mutuo tu adesso già stai 750 e verosimilmente arriverai arriveremo a 8 900 euro quindi ovvio che è un problema grandissimo parliamo di decine di miliardi di euro è di spesa con questi aumenti per la rata del mutuo in più dispiace c'è la massima solidarietà ma un po fa sorridere pensando al tutto il terrorismo psicologico comunicativo e mediatico che in corso di questi anni è stato fatto nei confronti degli anti europeisti degli euro scettici dicendo ma lo sapete che succede alla rata del mutuo se usciamo dall'euro raddoppia tanto per dire che tutto quello tutto mancava solo l'inflazione la rata del mutuo tutto quello che per vent'anni ci hanno raccontato che sarebbe successo uscendo dall'euro disoccupazione povertà è venuto dentro l'euro tutto puntualmente puntualmente se avessimo perso una guerra probabilmente avremmo avuto ricadute economiche meno gravi ecco adesso potrebbero però dire va bene è successo non era previsto è successo adesso se usciamo dall'euro peggiora ancora allora per quanto riguarda la rata del mutuo siccome credo che ormai l'hanno capito un po' tutti la rata del mutuo sta aumentando perché la banca centrale europea sta aumentando i tassi di interesse la scelta se diminuire aumentare mantenere stabili i tassi non è algoritmica non è automatica è una scelta di politica monetaria che fanno le rispettive banche centrali e infatti se è vero che ci sono altre banche centrali che in questi mesi hanno aumentato i tassi ci sono anche altre banche centrali che i tassi li hanno tenuti bassi negativi o li hanno abbassati penso la banca centrale cinese penso la banca centrale giapponese quindi non proprio paesi in via di sviluppo poveri tanto per fare due esempi e quindi voglio dire se tu ti riappropri della tua valuta e quindi di una banca centrale poi sarà una scelta politica monetaria ma politica se tenere dei tassi alti o fare dei tassi più bassi quindi non è legato al tipo di valuta ma al tipo di politica che decide la propria banca centrale possibilmente in accordo col governo ecco veniamo un altro dato economico che questo uno in particolare ce lo fornisce lista sulla povertà e questo è molto molto importante merita che ne trattiamo oggi eh sì perché l'ultimo report sulle condizioni delle famiglie italiane pubblicato proprio nelle scorse ore dall'istat ci fa un dato che sorprende per il numero per la quantità ma non dovrebbe sorprendere conoscendo il percorso da cui veniamo che cosa ci dice l'istat che circa un quarto della popolazione c'è un italiano su quattro il 24,4 per cento per la precisione è a rischio povertà o esclusione sociale è un'enormità sono numeri non degni di un paese industrializzato civile quale è o quantomeno dovrebbe essere l'italia un italiano su quattro una persona su quattro di un paese sono numeri degni di un paese forse del terzo mondo o al limite appena appena in via di sviluppo ecco questo si collega a un dato che noi raccontiamo spesso ogni volta che viene eh come dire ehm aggiornato di anno in anno bisogna ricordare che da quando l'istat conteggia il numero di italiani in condizioni di povertà assoluta cioè dal 2005 poco dopo l'ingresso nell'euro prima non era un un indicatore che veniva conteggiato comunque sia diciamo che da poco dopo che siamo entrati nell'euro il numero di poveri assoluti è più che triplicato l'ultimo dato abbastanza fresco riguarda il 2022 ci dice che 6,4 milioni di italiani sono in condizioni povertà assoluta quindi non a rischio povertà sono già poveri assoluti l'anno prima erano 5,5 milioni quindi sono aumentati in un anno del 16 per cento e ma nel 2005 a inizio serie erano 1,9 milioni cioè è più che triplicata perché si è passato da meno di 2 milioni di italiani in condizioni di povertà assoluta a 6,4 milioni e devo dire Carlo sono molto preoccupato quando li avremo per i dati di quest'anno perché sappiamo che con un'inflazione così alta e i salari reali fermi anzi salari fermi al palo quindi salari reali in calo ma non in calo dell'1 o 2 per cento stiamo perdendo il 6, il 7, l'8, il 9 per cento di potere d'acquisto in un solo anno questo vuol dire solo una cosa che il numero di poveri anche quest'anno è ahimè destinato ad aumentare anche perché non sembra che da parte del governo ci siano la reintroduzione della scala mobile, le assunzioni e tutto quello che servirebbe a contrastare questo fenomeno. Sì, è un altro dei successi dell'euro come quelli che abbiamo visto prima legati anche ai mutui. Senti un altro tema, allora vedo qui ecco non c'è solo una pletora di politici ed economisti che in questi decenni ha lavorato per l'accessione di sovranità a Bruxelles e per la demolizione della Costituzione, specificamente nella parte economica, ma c'è anche una squadra di costituzionalisti che lotta contro la stessa Costituzione. Allora, sono state riprese le dichiarazioni della Presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra, i media ne hanno dato spazio nella loro logica in senso positivo, noi invece li commentiamo direi in senso negativo perché ha affermato la Sciarra che la supremazia del diritto comunitario su quello nazionale è indiscutibile. Cosa significa questo, Gilberto? Al di là del, in un certo senso, l'abbiamo già visto e capito, della cessione di sovranità, mettiamola anche proprio dal punto di vista proprio del diritto, che conseguenze ci sono? Innanzitutto si ribaltano le basi del diritto, è incredibile che a dirlo sia uno di quelli che dovrebbero essere i massimi garanti invece proprio della Costituzione. Lo state molendo da dentro, insomma, ecco. Sulla carta i massimi garanti dovrebbero essere il Presidente della Repubblica e la Corte Costituzionale, i massimi garanti. Sentire da uno di questi due in realtà in passato qualcosa di simile, bisogna dire, lo ha detto anche proprio il Presidente della Repubblica, cioè quant'è importante tutelare il vincolo esterno sostanzialmente ai trattati a scapio di qualsiasi altra cosa, che quelli che dovrebbero essere i massimi garanti della Costituzione, siano tutto sommato poi nei fatti tra i loro maggiori avversari, perché dire che il diritto comunitario prevale su quello nazionale è una cosa che non si sogna di dire nessuna Corte Costituzionale degli altri Paesi europei. Abbiamo parlato spesso della Corte di Casorue, Carlo, no? Cioè, in Germania nessun costituzionalista, tantomeno nessun membro della Corte Costituzionale, si sognerebbe mai di dire che il diritto comunitario prevale su quello nazionale, anzi affermano costantemente l'esatto contrario, il diritto comunitario vale fino a che non entra in contrasto con quello nazionale. Anche oggi c'è un'intervista che proviene da sfere piuttosto alte della Germania in cui dicono, per esempio, ma se una banca tedesca dovesse andare in difficoltà, noi ce ne preghiamo di quello che dicono i trattati europei e noi la salviamo, costi quello che costi. Come è normale che sia, in uno stato normale. Purtroppo l'Italia non ha mali anche da questo punto di vista. È vero che l'Italia soffre di un gravissimo problema di vincolo esterno, ma quel vincolo esterno è possibile perché abbiamo un problema ancora più grande di vincolo interno. Cioè, in Italia è pieno di persone, nei posti chiare, che anziché tutelare gli interessi nazionali, la Costituzione e i diritti in essa sanciti, lavorano allacremente per smontare tutte queste cose, perso per pezzo, favorendo qualsiasi trattato sovranazionale, anche e soprattutto e quando vanno in contrasto invece col nostro diritto nazionale. Sì, perché si vede che fondamentalmente sono legati dalla convinzione tutte queste persone che all'Italia conviene essere comandata da Bruxelles piuttosto che autogovernarsi a Roma. A chi ribatte, ma lo prevede la Costituzione, la cessione di sovranità, allora magari leggetela la Costituzione, magari capitela anche, mi riferisco a chi dice questa cosa, perché la Costituzione italiana prevede limitazioni di sovranità, non è per spaccare il capello, ma limitazione e cessione non sono assolutamente la stessa cosa, sono molto diverse. Non solo, come se non bastasse a scanso di equivoci, sempre la Costituzione dice che le limitazioni della sovranità sono possibili solo in un rapporto tra pari. Nessuna di queste due condizioni riguarda la cessione di sovranità che l'Italia ha fatto a Bruxelles. Non è una limitazione, ma è una cessione totale e non è tra pari. Fatto sta che abbiamo raccontato spesso che le modalità della Commissione europea, del Parlamento europeo, dell'Eurogruppo e di tutto quel simpaticissimo gruppo di persone, sono purtroppo molto più simili a quelle dei mafiosi perché vanno avanti a ricatti. Quando provi a dire che questa cosa non mi sta bene, questa cosa non voglio fare, ti ricattano con lo spread, ti tolgo le rate del PNRR, ti blocco tutti i migranti da te, sono medio di simili mafiosi. Alla luce di questo, se non si trattasse della Presidente della Corte Costituzionale, sottolineo se non si trattasse di parole dette da lei, credo che nessuno avrebbe paura a parlare, estrapolandole, di parole che hanno un fuoco inquietantemente eversivo. Certo, Presidente della Corte Costituzionale, ricordiamolo, Silvana Sciarra. Sì, Gilberto, l'ultimo punto, ma diciamo, in questi giorni qua se ne sta parlando molto a livello, dando un senso anche un po' di gossip, ma in realtà il tema è molto importante su più piani perché parliamo di Forza Italia e di conseguenza della famiglia Berlusconi a questo punto. Quindi stiamo parlando della famiglia Berlusconi, quindi gruppo Mediaset, uno dei gruppi che ha tra i più grandi fatturati in Italia, Forza Italia, che è un partito comunque intorno al 7-8% ed è di governo, quindi qua non parliamo di gossip, no? Effettivamente. Cosa sta avvenendo secondo te dentro il partito e dentro la famiglia Berlusconi che è destinata in questo senso a influenzare Forza Italia? Io credo che la famiglia Berlusconi, credo come hanno quasi sempre fatto, negli anni precedenti, parliamo dei figli ovviamente di Silvio Berlusconi. Marina Berlusconi ha garantito che sosterrà economicamente, l'ha detto in favore di telecamere. Ecco, però credo che si limiteranno a questo, cioè non vedo, non mi sembra, si sono sempre tenuti lontani dalla politica i figli, si sono sempre occupati delle diverse aziende di famiglia e continueranno a fare questo. Credo sia verosimile che almeno inizialmente continueranno a dare un supporto economico anche al partito messo in piedi dal padre, perché è un rapporto di simbiosi parassitaria, è ovvio che al partito serve il supporto delle aziende, è ovvio che la presenza del partito in Parlamento aiuti anche le aziende, per tutte quelle questioni che possono venire fuori che riguardano poi l'andamento, la tutela delle aziende di famiglia. Se hai un partito da te finanziato che sta in Parlamento, capisci che è tutto molto più facile, quindi credo che sia un investimento per le aziende di famiglia che ripaga poi sostanzialmente. D'altronde si è visto anche negli anni in cui in punto c'era ancora il padre, fino a pochi giorni fa, insomma, spesso queste due cose emanate dalla stessa persona, ci sono state delle commissioni, no? Evidentemente, sono dati di fatto, non sono opinioni, quindi è verosimile che la famiglia continua ad aiutare il partito, poi qual è il destino del partito? Quello è un altro paio di maniche. Per quanto tempo, secondo te, potrebbe continuare a sostenerlo? Perché un disimpegno rapido probabilmente sarebbe anche conto producente, no? Forse per anche l'immagine della famiglia, per il gruppo stesso Mediaset. Sì, ma credo che comunque il partito andrà incontro a forti difficoltà, perché era un partito, forse il partito più personalistico di tutti, di quelli presenti in Italia. Costruito da Silvio Berlusconi e intorno a Silvio Berlusconi. Nel mentre non è cresciuto niente di degno di nota, non voglio neanche parlare di classe politica, cioè Ronzulli, italiani, insomma, dite chi vi pare, ma non c'è un personaggio neanche lontanamente in grado di raccogliere, per forza Italia, l'eredità di Berlusconi. Fatto sta che si teme che cominci una fuoriuscita, che in realtà era cominciata molto prima, già con l'andare dell'edità di Silvio Berlusconi. Anche figure, diciamo, tra virgolette, eccellenti, quantomeno mediaticamente famose, no? Assolutamente. Chi è andato con Calenda, chi con Renzi, chi con Fratelli d'Italia, chi con la Lega. È ovvio che queste dinamiche sono anche legate all'andamento nei sondaggi di un partito. Quando un partito scende tanto, si avvicinano le elezioni, sai che tu hai meno modo di essere eletto, perché è ovvio che un partito al 20% elegge un tot di parlamentari, un partito al 5% ne elegge molti meno. Quindi ci sono degli spostamenti in aree più o meno attigue, in base alle singole sensibilità dei militanti di partito, che vanno in partiti che invece sono in ascesa o sono dati a percentuali superiori. In più, quando il leader carismatico, il fondatore, si avvicina a fine vita, a fine carriera quindi anche, questi movimenti aumentano. Io credo che il peso di Forza Italia, letteralmente, credo sia destinato a scendere. Non credo a sparire del tutto, ma credo che sia destinato a scendere. Da questo punto di vista, credo che il più grosso vantaggio potrebbero trarlo, è vero che sono dei remi dal contrario, però probabilmente l'area di riferimento più simile politicamente può essere veramente quella di Calenda e di Renzi, dei liberali moderati, chiamiamoli così, insomma, non saprei come altro chiamarli. Meno la Lega e Fratelli d'Italia, infatti non è che siano sempre andati particolarmente a morire d'accordo, ma insomma credo che sia destinato a sgonfiarsi ulteriormente il peso di Forza Italia e a vedere un deflusso maggiore anche di parlamentari e quindi è possibile che in quel caso la famiglia Berlusconi decida anche conseguentemente di diminuire il proprio impegno economico. Diminuire il proprio impegno economico. Comunque è inevitabile una contrazione numerica a livello di elettori. Secondo me sì, poi magari sbaglio e viene fuori, non lo so, Berlusconi 2, che io non vedo all'orizzonte, ma insomma... Nessuno della famiglia, mi sembra oltre che... Mi sembra, ma questo non è nemmeno una critica da parte mia, nessuno dei figli ha una cultura politica, oltre che un interesse politico, e diciamo la figura quella più carismatica tra i figli, la Marina Berlusconi, di sicuro non brilla per empatia e in politica l'empatia, direi che, Gilberto, tu puoi confermarlo o meno, l'empatia, insomma, direi che è importante, no? Beh, io sì, io penso che poi i rapporti umani, quelli che riesci a avere, sono quelli che poi fanno la differenza insieme alla strategia, alla struttura, l'ettogramma, allo statuto. Qualcuno che parla al pubblico, voglio dire, in un partito ci vuole, un politico deve parlare al pubblico, ai cittadini, no? Troppo idealista, ma in teoria se uno decide di dedicare la propria vita alla politica, lo fa perché vuole rappresentare gli interessi, se non di tutti i cittadini, perché non tutti i cittadini hanno gli stessi interessi, almeno di una parte della popolazione, e se vuoi rappresentare i loro interessi, li devi stare a ascoltare, li devi relazionare con loro, altrimenti, sì, perché poi avevi i soldi, le tv, ti puoi riuscire a prendere l'otto il 10%, ma ho una visione diversa della politica, Carlo. Sì, come pensi, sappiamo, senti, siamo in chiusura, c'è domenica prossima, domenica 25, una conferenza sull'agenda 20-30, 2030, domenica 25, pomeriggio, al teatro Flavio a Roma, dove sarai tra i relatori. Incredibilmente parlerò di economia, so che non te l'aspettavi, no? No, questo mi coglie di sorpresa, cioè un finale di intervista a sorpresa, veramente. Esatto, e in realtà è interessante questa cosa, perché non è la solita, tra virgolette, convegno, conferenza, sull'agenda 2030, quella vera, cioè quella del World Economic Forum. Non avrete niente e sarete felici. No, ma decliniamo quei punti che sulla carta sembrano bellissimi, perché chiunque legge, eliminare la povertà, un mondo più verde, letti così, sembrano tutte cose bellissime. e poi sappiamo che le declinano in maniera opposta e antitetica o molto negativa per la popolazione, appunto, spogliarli di tutto in modo che non inquini, non si sa come eliminare la povertà, così forse se tutti siamo poveri, nessuno è povero, forse è questa la cosa. E noi declineremo, in questo convegno, i singoli punti nell'agenda 2030 come vorremmo che fossero declinati noi. Cioè, quindi parli di limitazione. Molto interessante proprio una controagenda 2030, possiamo dire. E' una controagenda 2030. Oltre a te, chi ci sarà, Gilberto? Beh, ci saranno moltissimi relatori interessanti, organizzata, lo dico, insomma, è una verità, è organizzata da Ancora Italia Sovrania e Popolare e da Democrazia Sovrania e Popolare, che è la coalizione di cui faccio parte anch'io e di cui fa parte il Fronte per la Sovranità Popolare. Ci piace Popolare, come avete capito, che ritorna sempre nei nomi. Organizzato su stimolo della Presidente di Ancora Italia Sovrania e Popolare, Bianca Laura Granato. Ecco, la collaborazione un po' di tutti quanti. Ci sono molti relatori interessanti. Ognuno ci sarà, Joseph Tritto, per esempio, e anche altri. Ognuno che ovviamente parlerà nell'ambito di propria pertinenza, competenza, per parlare di Smart City, come dovrebbe essere e non come ce la propongono. dell'eliminazione della povertà, della sanità e anche di un mondo più verde, che non vuol dire smettiamo di consumare o facciamo una lotta alla CO2. Molto, molto, molto interessante proprio l'impostazione, la Controagenda 2030. Quindi appuntamento domenica 25, pomeriggio, al Teatro Flavio a Roma. E noi, caro Gilberto, ci vediamo martedì prossimo per lo squillo del martedì. Grazie. Grazie Carlo, a martedì prossimo e grazie ai nostri ascoltatori. Grazie, grazie a tutti voi, amici ascoltatori. Grazie. Grazie a tutti i nostri approfitti,